Buongiorno a tutti chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo, siamo qui con Francesco, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale per Mesa Otto Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeistica, se la posta è 53, Malostica, Vicenza. Allora, prima di iniziare la trasmissione, io volevo fare un piccolo appunto per i nostri radioascoltatori che seguono la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo. tanti anni fa, circa 30 anni fa, sono tanti i 30 anni, è una vita diversa, io facevo parte dei gruppi da sinistra extra parlamentare e vabbè al di là di tutto quello che si racconta sono tutte stupidaggini in realtà, uno dei miei lavori più grossi era quello di analizzare qual era la struttura internazionale delle grandi multinazionali e dei grandi tramaccioni a livello mondiale, dal SIM al fondo monetario e a tutto il resto. Ora, so benissimo le leggende che scorrono fra Opus Dei, SIM, tramacci, soldi che girano, potere, traffici di droga, ce n'è di tutti i colori e ci sono decine e decine di organizzazioni segrete che lavorano, tramacciano, manacciano, smanettano, gli stati poi hanno la loro e per questo c'è anche la mafia all'interno dello Stato che si viene a inverigolare con l'altra, insomma è tutto un grande casino e diciamocelo chiaro, sarà sempre tutto un grande casino vita naturale durante. Cioè noi uomini che viviamo la nostra vita nella società in cui viviamo, siamo sballottati all'interno di tutta questa gente che tramaccia. Ora, se noi ci mettiamo a fare gli studi su tutti i tramaccioni che abbiamo, alla fine passiamo la nostra vita per riuscire a, neanche a cominciare a mettere in ordine. Allora, tanto vale che noi invece ci curiamo la nostra vita, la nostra esistenza e ci diamo un indirizzo all'interno del quale agire nella società in cui viviamo. E' inutile che io mi metto, Claudio Simeoni, ad realizzare ciò che fanno i servizi segreti italiani. Io chi so io? So io un coglione che parla da una radio, che scrive qualche testo, che ha delle idee filosofiche e religiose e là mi fermo. Per cui è inutile che mi metta a fare queste robe. Chiamiamoci per ciò che siamo. Siamo persone singole che subiscono i flussi della vita, i riflussi, le batoste, i tsunami, gli uragani della vita e della nostra esistenza. Allora, siccome questi ci saranno sempre, ci saranno sempre gli uragani, ci saranno sempre i zumani, ci saranno sempre qualcuno che dichiara guerra, ci saranno sempre qualcuno che organizza la mafia, ci saranno sempre chi organizza le rapine, ci sarà sempre il partito politico che farà questi o quei tramacci. Sempre noi troveremo queste cose. È inutile che le inseguiamo. Guardiamo la nostra vita e organizziamo la nostra vita su queste cose, cioè sulle nostre cose, sulle cose che per noi sono importanti. La vita va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Per cui è inutile che noi ci pensiamo diversi da quello che siamo. Ricordatevi questo. Vi dico, 30 anni fa io lavoravo per fare questo e vi assicuro che è un gran casino, ma veramente un casino. Si potrebbe dire senza che nessuno mi possa smentire che tutta l'economia mondiale, tutto il giro di soldi e del potere si basa sul traffico di droga. Nessuno mi potrebbe smentire su una roba del genere, sull'illegalità. L'illegalità è l'elemento fondamentale su cui esiste la legalità, su cui esiste lo Stato Democratico. Fate voi, è un gran casino, vi assicuro che è effettivamente un gran casino. Lasciate perdere queste cose e cominciate a guardare la vostra vita in relazione al mondo in cui viviamo, perché altrimenti sarete sballottati, diventerete spettatori, diventerete tifosi per questo, per quel partito, per questo, per quella fazione, per i servizi segreti di uno contro i servizi segreti dell'altro, per uno Stato che è in guerra con un altro. Tutti tramaccioni, tramaceranno e tutti vi chiederanno di essere i loro tifosi. Francesco, spero di... Sì, no, ma infatti una cosa che è importante ribadire, che le cose devono avvenire non tanto per motivi più o meno logici, perché non esiste una logica assoluta, ma esistono in base al nostro sentire, al nostro gusto e disgusto. Questo io lo ripeto spesso, perché molte volte le intuizioni fatte a pelle, e chiamiamole intuizioni o illuminazioni come volete, sono significative. Molte volte per fare delle scelte non serve avere letto, studiato o accumulato, come un termine che usa Claudio, accumulato informazioni. Molte volte basta distinto, basta la capacità di intuire o di percepire. Perciò non dobbiamo vivere con la paura di un nemico nascosto, occulto. Perché come tutte quante le cose, i sistemi hanno sempre una capacità di autoequilibrio. Quello che è fondamentale è la capacità sempre del singolo, della persona e in certe case anche dei popoli o delle piccole comunità di vivere. Nel senso che lavorare per contrapposizione o lavorare sotto la paura che qualcuno faccia qualcos'altro è assurdo. L'importante è che noi ci muoviamo, l'importante è che non ci fermiamo di fronte a ipotetiche o reali minacce, ma che siamo capaci di combattere. Nel senso che di fronte a una lotta titanica l'antico guerriero non si ferma, combatte perché si sa che deve combattere. Certe volte si dice che bisogna combattere anche su posizioni perdute, vabbè, ma per me non esistono posizioni perdute. Esistono cose che si sente di dover fare, che vanno fatte, certo vanno fatte con intelligenza. Perciò quello che è sempre fondamentale è quello di non combattere contro l'oscurità, come diceva qualcuno, ma di accendere una lucerna, cioè di accendere noi stessi, di essere vivi. Che attorno a noi ci sia l'oscurità, bene, sono gli altri che scegliono di vivere l'oscurità, sono gli altri che assumono l'oscurità. Perché io devo combattere un'oscurità così ampia? Io accendo la mia luce. Se molti altri faranno così, a dire che poi gli altri non lo facciano e non me ne frega niente, cioè nel senso che io non combatto per gli altri, non faccio il salvatore, non faccio l'illuminatore, non sono un detentore di verità, non sono un portatore di niente, porto solo la mia vita, io accendo la mia lucerna, io compio la mia vita, io realizzo quello che desidero, quello che a me piace, rifiuto quello che provo disgusto, ma hanno combattuto contro l'oscurità, io accendo la mia luce. Va bene, se gli altri non lo fanno, io non sono certo lì a ricordarlo, non sono certo il buon samaritano, non sono certo quello che gli va a aiutare, sono certo quello che ha una verità da predicare, ma faccio le cose per cui mi piace vivere e le cose che sento giuste, le cose per cui provo gusto, per cui provo desiderio, quello che appunto il mio istinto, quello che la mia vita, il mio desiderio fa, poi che si trovino accordi o disaccordi, è un problema secondario per me. Sì, anche perché vi dico, milioni di tramaccioni tramacciano effettivamente, l'unico modo per bloccare i tramaccioni, per dire di agire, è quello di agire alla luce del sole, vi assicuro che si è intoccabile. Ma se noi prendiamo ad esempio, e dovessimo cercare di osservare la nostra realtà, tutte le interferenze che ci sono fra i miliardi di animali, di piante, di sostanze che ci sono, cioè noi dovremmo essere terrorizzati da questo, eppure noi riusciamo a vivere, cioè nel senso, perciò noi vediamo che la vita per sua natura è complessa. Vedete anche le ricerche che fanno per cercare di stabilire i geni, si può dire che poi pochi geni sono determinanti, che sono lì imprevisti. Benissimo, di fronte alla molteplicità delle cose non ci si deve fermare, cioè noi non abbiamo bisogno di conoscere il nostro patrimonio del DNA per vivere, noi non abbiamo bisogno di conoscere la composizione dell'ossigeno, sappiamo che i nostri polmoni respirano meglio o respirano peggio. Di conseguenza è importante che noi viviamo, che non stiamo a chiederci perché dovremmo analizzare delle cose, perché si può analizzare una cosa se reputiamo fondamentale per la nostra esistenza. Ma il fatto che il sole esorga, al di là che qualcuno sia perché c'è una combustione di tipo atomico o al di là per qualche altro motivo, il sole esorge e il fatto che io convivio come specie con il sole mi permette di vivere meglio, al di là della natura testa del sole. Perciò le cose che sono attorno e però esistono tutta una serie di legami, perché se noi parliamo dell'importanza, ad esempio, dell'eliosfera potremmo andare a lungo, però non abbiamo bisogno di discutere dell'eliosfera, sappiamo che si fa vivere. Sì, vabbè, intanto si stanno sciogliendo i ghiacci del polo a una velocità impensata, non è vero impensata, perché già un matematico del 1800 l'aveva già preannunciata, ma tanto ero un povero idiota, per cui quel matematico lo possiamo perdere. Il rio dell'Amazoni è in secca, è una cosa folle, c'è una roba fuori di testa, cioè che il rio dell'Amazoni fosse in secca è una cosa impensabile, eppure è semi in secca. Qualche uragano in più si sta abbattendo, poche cose, la corrente del golfo si sta un pochino rallentando. Sì, sono pochissime cose, ma il mondo attorno a noi sta cambiando, e sta cambiando proprio per le azioni che noi stiamo facendo. E se non ci rendiamo conto che salvaguardare la nostra vita, agire in funzione di noi stessi, è importante, effettivamente potremmo fare un elenco di tutte le cose che esistono, però alla fine non ricaviamo assolutamente niente, diventiamo dei tifosi e basta. Sì, ma adattore sai, elencare le cose sembra un discorso di numerare, una volta che le hai elencate ti accorgerai che non le hai numerate tutte. A questo punto l'importante è comprendere le cose che noi riputiamo importanti e che sono importanti. L'importante è fare delle scelte, ma le scelte non possono essere state lì, passare la vita, fare un inventario di elementi che poi, questi elementi che cosa saranno per la nostra esistenza. l'importante è avere la capacità di utilizzare le informazioni, di avere delle fonte di informazioni, di sapere sintetizzare informazioni, creare legami imprevisti, fantasiosi. C'è stata una scuola di filosofia che si chiama Scuola di Vienna, tra i quali uno dei massimi esponenti era Popper, i quali sono messi ad analizzare la storia per riuscire a capire come prevedere i flussi storici. Beh, è inutile che vi dica che è stato un grande fallimento, perché questo? Perché la storia obbedisce a caratteri emozionali e caratteri intuitivi che nessuna razionalità è in grado di determinare. Certo, i grandi movimenti economici, le grandi strutture sociali sono in grado di dare degli imprimatur, però ciò che mette in moto le cose appartiene a un intimo talmente profondo dei soggetti che davanti a questo la Scuola di Vienna è stato un fallimento e resterà un fallimento proprio per ricordarci di questo. Si sai, è sempre come il sociologo che studia gli altri che fanno le cose, cioè alla fine tu non vivi, vivi l'osservare gli altri. Certo, gli altri diventano le cavie su cui lui si fa i suoi studi. Poi la storia si fa una volta che è passata. Esatto, la storia si studia dopo, dopo si cercano i meccanismi, però ricordatevi che i meccanismi emozionali sono quasi sempre impossibili da identificare, anche perché come dice Marx è vero che la guerra fra Nord e Sud dei Stati Uniti è avvenuta per questioni economiche, perché il Nord industriale aveva bisogno di mano d'opera, però effettivamente chi ha mosso le emozioni della persona, cioè chi è stato in grado di mobilitare, non è stato i bisogni dell'industria, sono stati i bisogni emozionali delle persone, al di là che fosse giusto o che non fosse giusto. Poi qualcuno aveva bisogno emozionale, qualcun altro i soldi, qualcun altro ci metteva questo, qualcun altro un altro, un altro, un altro. Quando fate un'analisi di come è avvenuta quella guerra o altre guerre, troverete la coincidenza di decine e decine di fattori, e allora metterete l'accento sull'uno o sull'altro, però vi sfuggirà l'insieme e questo è un errore gravissimo. Sì, anche perché appunto star lì e cercare di capire quali sono gli elementi di un fatto, quando il fatto è accaduto, è secondario, cioè l'importante è questo fatto, come sono cambiate le cose, perché la storia, purtroppo noi abbiamo libri di testo che c'è come sintetizzare centinaia di anni in due righe, però se noi andassimo all'interno di questa storia comprenderemo moltissime altre cose, che il numero degli elementi intervenuti, della somma di tutti i fattori è una cosa impossibile da fare, allora potremmo apprendere dei sistemi per mobilitare le cose, per mobilitare le energie, per indirizzare verso quello che ci piacciono, però la storia appunto è passata, ci può dare uno spunto, ma la storia non è maestra di insegnamento, assolutamente non dà nessun insegnamento. No, ci può dare insegnamento, possiamo prendere tutta una serie di cose che ci possono aiutare, però alla fin fine siamo noi che dobbiamo agire nella quotidianità, cioè siamo noi i protagonisti della nostra vita e questo è importante che noi ce ne rendiamo conto, perché altrimenti guardando sempre di fuori, guardando l'attività dei servizi segreti, delle strutture economiche, degli industriali, dei commercianti, delle strutture internazionali, dell'Unione Europea, di tutte le strutture che agiscono all'interno dell'Unione Europea, perché ci sono strutture, sottostrutture, sottostrutture elette, sono strutture rappresentative, strutture economiche che agiscono, cioè è un casino, ma veramente un casino, cioè effettivamente guarda, se uno analizza tutte queste robe, mette queste robe ma nei capelli, perché effettivamente c'è struttura, sottostruttura, sottostruttura, e ricordate che una struttura segreta ha un obiettivo principale, è quella di piazzare il suo uomo là dove pensa che sia importante piazzarlo, però al di là di questo più di tanto non riesce a fare, perché le cose alla fin fine si manifestano dopo pubblicamente, per cui è la faccia pubblica che riesce a manifestare, che riesce a costruire, che in realtà è quella che ti sposta alle strutture emotive della gente da una parte o dall'altra. Allora, il pagano politeista cosa fa? Il pagano politeista organizza se stesso al fine di agire in maniera proficua nella società in cui vive. Questa società ha trovato nascendo e questa società deve organizzarsi. Francesco, ci siamo? elementi che sono stati inseriti. Va bene, parliamo ora della nostra grande fatica. In realtà spostare una statua di quasi 300 kg è una fatica notevole. Intanto ringraziamo tutte le persone che ci sono prestate, che sono arrivate all'improvviso proprio per aiutarci a fare questa operazione. Abbiamo messo sull'altare sacro, presso il bosco sacro di Jesolo, la prima statua. Si tratta della figlia di Pallante Estige, ed è Nicche Vittoria. Una statua che fu Vittoria come simbolo, al di là poi di quella che è la mitologia, fu il simbolo delle antiche civiltà e fu uno degli ultimi simboli rimasti proprio di Roma Antica. Per cui diciamo che, al di là che sia la limitazione della Nicche di Samotraccia contenuta in Louvre, rappresenta l'inizio partendo dalla fine, da dove la storia dei pagani era rimasta in sospeso. Abbiamo dovuto portarla, vi ringrazio naturalmente tutte le persone che sono a corse, dall'oggi al domani riuscire a chiamare la gente, insomma sono arrivati tutto sommato, è stata una buona mobilitazione Francesco, e non c'era una mano di troppo tutto sommato, tutti quelli che sono riusciti a fare tutta l'operazione, un po' di arrangiarsi, un po' di fortuna, un po' di questo e di quello, insomma 300 kg è stata tanta. Francesco ho organizzato la processione, Francesco se vuoi raccontare tutto il discorso. Come sapete appunto, l'adio si è preso la parte più comoda, è andato direttamente al posto sacro a occuparsi del ricevimento e noi siamo partiti appunto qua da vicino alla radio con la statua. Logicamente abbiamo fatto una vera processione sacra perché purtroppo o per fortuna il furgone non poteva correre più di tanto e di conseguenza da qua a Jesolo abbiamo fatto veramente una bella colonna, soprattutto nella parte della Venezia a Jesolo. La roba più divertente è che il trasporto è stato fatto con un furgone con i vetri trasparenti, perciò ogni volta che il furgone veniva accostato, superato, illuminato dagli abbaglianti, le persone si vedevano le ali delle anniche di Samotracia appunto che spostavano, che uscivano, che si vedevano, si intravedevano dal furgone. E la statua, posso dire che io che me ne sono occupato anche poi, no, di stata della pulitura, è una statua ben realizzata anche nei minimi dettagli. Ed è una statua veramente grande, è una statua bella. Claudio appunto quando diceva che questa statua è un nuovo inizio o una ripartenza, si riferiva a un fatto storico molto importante. Nell'ultimo periodo dell'impero romano ci fu il contrasto tra l'imperatore cristiano e il senato pagano. E nel senato pagano c'era una statua della vittoria. Simaco fece un'orazione in difesa all'altare della vittoria ed è considerato da moltissimi, anche storici, l'ultima manifestazione pubblica in cui un'istituzione pagana si scontra ufficialmente con il cristianesimo. Dopo di quello il senato diventa cristiano e non ci sono altre possibilità. Perciò posso dare la storia proprio come questo fatto, questa orazione sull'altare della vittoria di Simaco. E il fatto stesso che la Stato poi venisse da Roma, perché appunto non è di produzione locale ma è stata realizzata a Roma, il fatto stesso che fosse una niche ci dà un po' anche della continuità del paganesimo, cioè nel senso che da una battaglia pubblica, perché poi il paganesimo non è che sia scomparso, è stato cancellato dalla storia o che sia sparito, è diventato più occulto, sommerso, è andato sotto, è stato appunto nel sottosuolo, chiamiamolo così, nelle radici, nelle radici d'Europa. Ed è riemerso e in un certo senso questo fatto che noi abbiamo, diciamo casualmente, usiamo questo termine che poi sappiamo che il caso non esiste, scelto questa statua e quasi uno ricollegasse a questa antica battaglia. A quando appunto Simaco sosteneva che la forza di Roma era la capacità di venerare i propri dèi, le proprie origini, e che la potenza di Roma e la grandezza della città derivava dal fatto che fosse ancora venerato la statua della vittoria. Noi siamo ripartiti appunto dalla nicche, proprio per dire che il paganesimo ha questa continuità, non ha questa interruzione, che la lotta che Simaco e gli altri pagani fecero in quel periodo è la stessa che facciamo noi, cioè nel senso che nulla è cambiato in quanto il monoteismo è sempre presente. La statua è stata collocata nel bosco sacro, con una piccola cerimonia di consacrazione, chi va sulle medie inizie del paganesimo, e Dalliano troverà alcune fotografie realizzate con un po' di problemi tecnici. Francesco ha messo tutta una serie di una decina di fotografie scartate al buio, cioè mentre stavamo installando la statua sul gruppo paganesimo, e ci sono state aperte anche delle pagine su federazionepagana.it, per cui può leggersi insomma anche... Sì, io ho anche realizzato un piccolo filmato del rito di consacrazione che poi non ho fatto tempo a passare a Claudio, che comunque lo porterò, nel filmato si vede qualcosa di più insomma, però posso dire che la statua è una statua che veramente ben si colloca all'interno del bosco sacro, ed è una statua appunto che tutti quanti, le persone che hanno partecipato alla sua collocazione, alla sua consacrazione, hanno trovato veramente bella. E posso dire che il fatto stesso anche del trasporto, perché l'ultima parte l'abbiamo trasportata a mano praticamente, nel senso che utilizzando un carretto, è stata un po' più bella perché in mezzo al bosco si è passata appunto con questa statua, e tutte le persone che hanno partecipato sono state contentissime di essere presenti, al di là della fatica, dello sforzo, dell'impegno, e soprattutto hanno veramente trovato bella questa statua. Io non so le reazioni che sono state dai vicini al bosco sacro, perché appunto non ho ancora avuto occasione di parlare con il Flamine, appunto, di questa cosa. Abbiamo già consacrato la sera stessa con un piccolo rito proprio il più sintetico, il più pregnante e breve possibile, perché tenete conto che chi è partito da lontano come me e da altri siamo arrivati a casa che erano quasi le due e mezza, perciò insomma, è stato notevole. Abbiamo voluto partire alle sei del pomeriggio, insomma. Poi la gente a mattina doveva andare a lavorare, per cui era un bel massacro, insomma. Però, nonostante tutto questo, il rito è stato veramente bello, proprio perché c'è stata questa partecipazione corale delle persone, sul fatto che tenete conto che non avevamo nessuna leva, non avevamo nessun rimorchio, non avevamo nessuna struttura particolare, è stata fatta a mano. È stata proprio scaricata, proprio di peso, dal furgone e portata... se non ci fosse stato Archimede quella volta, avremmo fatto molta più fatica, ma altronde. E perciò il prossimo rito che si terrà nel Bosco Sacro di Jesolo, ci sarà anche questa nuova compagna, questa compagnia, questa presenza che, per chi non l'ha vista, merita di essere osservata, è proprio perché è una statua più realizzata, è perché effettivamente, io lo ricordavo anche gli amici che erano lì venerdì sera, ricordiamo che nel paganesimo esisteva la teorgia, che era l'arte, la capacità, l'abilità di persone di rianimare le statue. E logicamente le statue, come tutte le cose, hanno un'anima. La capacità degli individui di fondersi e di entrare in contatto, e poi creano una nuova entità. Se io penso che hanno fatto un convegno proprio in questo periodo, in cui si parla delle gregore, cioè le gregore è quell'energia che viene data dalla sommatoria delle persone che partecipano a qualcosa. Questa energia logicamente viene a essere fissata, viene a essere collocata in qualcosa, io posso dire che questa statua di Niche, da noi trasportata, da noi consacrata, da noi voluta, da noi lungamente attesa, comincia ad avere una sua anima. E sarà certamente una compagna interessante, divertente e bella per i prossimi riti. Comunque, un'altra cosa importante da dire, al di là del fatto religioso oppure semplice, quei quattro soldi che abbiamo raccolto, la Federazione Pagana, perché si tratta effettivamente di quattro soldi, sono stati spesi per questo. Cioè, i soldi delle iscrizioni alla Federazione Pagana, i piccoli contributi che abbiamo tirato su, avevano una funzione, cioè erano in funzione della costruzione dell'altare pagano. Attualmente la costruzione dell'altare pagano procede a mano a mano che raccogliamo quei piccoli soldi. Noi non avremo mai il grande disponibilità di denaro, tanto per essere chiari, avremo sempre i piccoli contributi delle persone che vivono con passione quello che stiamo facendo. Ed è con quella passione, in realtà, che andiamo a costruire quello che è l'altare pagano. E il fatto stesso di essere riusciti a raggiungere questo obiettivo, per quanto parziale sia, perché l'obiettivo deve essere ancora portato avanti ulteriormente, è una dimostrazione della nostra volontà di continuare su questa strada. Perché mi presenta Francesco che c'è la volontà di tutti noi. Noi stiamo per concludere il nonno anno di trasmissioni radiofoniche. Le persone che ci sono vicine hanno vissuto un sacco di contraddizioni, hanno vissuto un sacco di battaglie. Alcuni da queste contraddizioni non sono ancora uscite. Cioè, esiste un comportamento eroico delle persone che è stato effettivamente incomiabile. Il paganesimo colpisce la struttura delle emozioni delle persone. Per cui noi non avremo mai le masse che ci vengono, le 50.000 persone che fanno a quelli che vedono la Madonna. Noi abbiamo delle persone vicine che attraverso tutta una serie di sforzi modificano loro stessi la loro capacità di leggere il mondo. Per cui abbiamo vicino effettivamente degli eroi. Cioè, degli eroi che sono nati, educati nel cristianesimo, nella società in cui viviamo e che sono riusciti a modificare se stessi spesso trovandosi dei casini attorno, non indifferenti. Per cui il fatto stesso di avere queste persone, noi siamo estremamente felici perché tutte queste persone sono persone che hanno avuto un percorso, cioè hanno avuto un comportamento eroico e ancora oggi hanno delle difficoltà e a quale naturalmente facciamo tutti gli auguri. Perché modificare la struttura emozionale delle persone, riuscire a concepire che il mondo è un ente vivente nel quale siamo immersi, è forse il più grande capolavoro che siamo riusciti a fare in questi nove anni, sia di radio, sia di internet, sia di quello che è stato diffuso. E questo dobbiamo riuscire a capire. La NIC in realtà rappresenta un'altra tappa del nostro cammino ed è un cammino per le persone che vi hanno partecipato. E in fondo quella statua è anche un po' di anima di quelle persone, cioè un po' di tutti noi dentro. Sì, infatti appunto la scelta di una statua è proprio perché il paganesimo ha un ricollagarsi che è dovuto alle forme, cioè nel senso che alle forme significa che tutte le persone devono osservare. Non è l'accettazione di principi, di canoni, di valori, non sono obblighi, non ci sono parole da eseguire, ma c'è sempre l'invito che noi facciamo, ripetiamo, di osservare. E la statua è la capacità prima di tutto delle persone di modellarla, degli artisti o di chi ha una sensibilità di modellare qualcosa, di dare forma a quello che percepiscono, a quello che sentono, di dare forma a una forma che è comunicante. Logicamente l'immagine, le forme sono sempre evocative di qualcos'altro, cioè sono un collegarsi, sono un richiamarsi, sono un ricordare qualcosa. perciò la nicchia di Samotraccia, quando uno la osserva, cercherà di comprendere anche la cultura che gli è dietro. E la cultura che è dietro la nicchia di Samotraccia, la religione che gli è dietro, non è certo il nostro principio darla. Saranno le persone che andranno a cercarsi le informazioni, che andranno a cercarsi le notizie, che scopriranno quanto erano le forme, quanto erano le divinità, quanto erano molteplici anche le forme di manifestazione degli dèi. E usare le statue è una forma di idolatria, nel senso che molte volte succede il termine idolatria nel senso negativo o spregiativo. Ma in realtà l'idolatria permette di rendere concreto un qualcosa che è tangibile. Fate esempio una cosa che io invito sempre a fare alle persone quando è possibile, ma è quello di toccare le cose. Cosa è che concretizzare ciò che è tangibile non è idolatria, è esattamente il contrario. Sì, ma l'idolatria sotto viene presentata come qualcosa di negativo. Cioè, l'idolatra che ad esempio ama o gli piace una statua, un oggetto, una montagna, un albero, è sempre visto perché non è spirituale, perché non è staccato, perché non è immateriale. In realtà da me capire che quando si parla di immateriale tipo un principio, un valore, cioè quando si parla ad esempio dell'amore cristiano, cioè l'amore cristiano è un'applicazione puramente concettuale, puramente di masturbazione cerebrale. È un'illusione. Cioè, è qualcosa di peggio veramente. Sì, cioè noi dobbiamo essere attenti alle cose tangibili. Soprattutto il fatto di una forma data, di una statua, ricorda sempre che noi viviamo in un mondo in cui la forma è essenziale, in cui noi comunichiamo tramite la forma, perché al di là delle parole che potremmo dire, al di là dei pensieri che potremmo fare, noi non comunichiamo i nostri pensieri molte volte, rimangono reconditi, nascosti nell'inconscio o nella mente. L'immagine permette di comunicare un qualcosa, anche perché l'immagine come una nicola di Samotracce si ricollega a tutta un'antichità, a tutta una tradizione, cioè non è priva di fondamento, non è priva di radici. Perciò l'importante è l'idolatria e sempre un chiamarsi a qualcosa, perché l'idolatria è anche l'ammirare una montagna e anche osservare un fiume e anche amare una pianta, perché proprio richiama al mondo del sensibile, al mondo del tangibile, al mondo del percettibile e del mondo del comunicabile, perché nei nostri pensieri potrebbero essere così astrugi che non sono comunicati, però se noi realizziamo un qualcosa di concreto riusciamo a comunicarlo, a farlo percepire. C'è una cosa a dire della vittoria, cioè della statua della vittoria. La vittoria è un personaggio che si manifesta nelle azioni, cioè come fine delle azioni delle persone. C'è vittoria praticamente consegna l'oro alla persona che ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissata. Vittoria non ti spinge a raggiungere l'obiettivo, non ti dà energia. Vittoria è sull'obiettivo che ti sta attendendo e ti sta dando la corona del vincitore. Questa vittoria in realtà è un titano che si separa da quello che è l'intento da fanete, ciò che nasce dall'uovo primordiale e che attende le persone, attende le persone che portino a termine i loro progetti di vita. Per cui non vi aiutano i progetti, ma vi aspetta, vi aspetta per darvi la corona della vittoria. Ed è importantissimo questo concetto dal punto di vista religioso, perché significa che è inutile che preghi di vittoria. Vittoria è là, è là sull'obiettivo che tu devi raggiungere, cioè l'obiettivo per cui ti devi organizzare per arrivare. Quando tu arrivi lei ti dà la corona, dice sei arrivato, ce l'hai fatta. Ed è questa divinità in pratica che ci sta attendendo da qualsiasi parte e sotto la forma di Ecate ci sta attendendo anche nella morte del corpo fisico. Ma questo è un altro discorso, è un po' più complesso. Sì, ma di fatto il punto del concetto di vittoria è un concetto che ha a che fare più che altro con i singoli, cioè nel senso che la vittoria è la capacità di qualsiasi persona con un animo eroico di combattere, di agire, di fare, di intervenire, di essere presente e di cercare le cose in cui si riconosce e che sente. La vittoria appunto non ti aiuta in questo senso, cioè sono altre divinità che ti accompagnano nel tuo percorso. La vittoria dice chiaramente che l'obiettivo è stato raggiunto. Logicamente non esiste un'unica vittoria, non esiste un fine, non esiste un traguardo, ma ogni traguardo è una nuova partenza e ci saranno sempre nuove vittorie pronte. L'importante è appunto ricordare questo, che noi non dobbiamo pensare che ci sarà la vittoria che ci aiuterà, ma che la vittoria sarà il fatto che noi siamo riusciti. poi noi noi vinciamo sempre perché soltanto rimanendo fermi perdiamo, soltanto rinunciando perdiamo. Tra l'altro il monoteismo è la religione della rinuncia, noi diciamo di non rinunciare a niente e già nel non rinunciare è già una vittoria anche questa. Perciò appunto simbolicamente il resto della vittoria dice questo a tutti i pagani non siamo noi che vi riconosciamo alla vittoria ma siete voi che dovete percorrere quello che voi sentite nel vostro animo per realizzare la vostra vittoria e quando avrete vinto la vittoria comparirà. Già, va bene è così abbiamo messo la prima stanza sì vabbè dobbiamo portare anche la colonna poi dobbiamo messare la vittoria sulla colonna sarà un'altra a meno che non sia una variante sulla colonna a meno che non faremo una variante ma qualcuno sta già facendo i grandi progetti delle strutture e delle carrucole ogni carrucole ha di mezzo il peso per cui mettendo due carrucole libere rispetto a due carrucole fisse si può arrivare al peso di 130-120 kg per cui si può riuscire anche a tirare su quel paranco e infilare la colonna sotto ma questo diventa molto più complesso per i nostri pochi e scarsi mezzi ma sai qualcosa faremo anche perché sono talmente tante le cose da fare che quando sei in grado di farne una l'importante è che ne fai un'altra non che non fai niente ma che fai un'altra e così via cosa dopo cosa sedimenti il futuro costruisci il futuro va bene sempre l'ipotesi di utilizzare la colonna rilestrovandola al Dio sconosciuto esatto che non è una cattiva idea infatti perché un pante un pagano sempre aperto non è chiuso non è limitato non ha confini anche perché Francesco diciamocelo chiaro se noi prendiamo tutte le antiche divinità è vero che le varie culture hanno tentato di trovare l'interpretazione per cui Giove Zeus Dievas sono la stessa cosa in realtà non è vero noi sappiamo che esiste una percezione soggettiva da parte dei singoli individui e delle singole culture di un immenso che le circonda ora percepire l'immenso significa percepire una parte dell'immenso però basta una piccola angolazione diversa di una cultura da un'altra che si percepiscono dei fattori in più o dei fattori in meno o dei fattori diversi pertanto anche se Zeus e Giove sono uguali cioè sono assimilabili però non sono la stessa cosa perché sono due modi di concepire il mondo di concepire l'universo di concepire la vita che sono diversi certo è lo stesso oggetto di cui parliamo parliamo sempre dell'atmosfera però ha una percezione soggettivata all'interno del sistema sociale che è diversa per cui Giove è immenso quanto Zeus è immenso ma Giove e Zeus sono diversi pur essendo riferiti allo stesso oggetto si può essere il tentativo di unificazione appartiene sempre purtroppo alla comparsa del monoteismo cioè nel senso che nell'antichità questi problemi non erano molto sentiti non percepiti erano secondari c'era il tentativo di riuscire a capire di cosa si stava parlando più che altro era un problema solo di comunicazione di comprensione ma poi logicamente si cercavano le assonanze sulle cose ma poi si riconosceva che era una cosa diversa cioè si cercavano le affinità le cose che potevano farti comprendere al mondo culturale cioè a uno che si vercava ad esempio in Egitto vabbè si diceva il Dio Ming come ha fatto il Dio Ming il Dio Ming assomiglia a Dio Pan cioè era un problema di comunicazione non la volontà di unificare no no non la volontà di appiattire ma la volontà di riuscire a comprendere quelle che erano le assonanze per riuscire ad andare avanti perché bene o male una cultura come un'altra viene ad integrarsi è chiaro che dopo le cose cambiano in continuazione cioè noi abbiamo delle figure che si modificano anche col tempo però la loro modificazione non appartiene all'oggetto in sé cioè alla divinità appartiene alla capacità dell'uomo di leggerla e di utilizzarla nella loro vita quotidiana perché le divinità sono oggetti d'uso se vogliamo cioè noi usiamo le divinità per vivere ricordate non è una cosa astratta è un oggetto materiale la divinità ciò che anticlericale e atei non capiranno mai questo cioè non capiranno mai la sacralità della vita questo che mi sconvoce cioè non riusciranno mai a capire che la vita è l'oggetto sacro di cui noi parliamo e ormai dai sono una forma in via di scomparso esistono solo i laici di sua santità ormai per far solo ho detto alcuni articoli di scalfa che si mette le mani i capelli sembra che addirittura chiamarsi laici nel senso di laici atei o anticlericali sia un'offesa insomma addirittura ho visto dei laici degli anticlericali più cattolici dei cattolici cioè esprime una moralità cattolica e in disprezzo della vita ho visto il problema ad esempio che l'ultimo libro di Don Efra il tratto di ateologia dice il problema è che qualche anticlericale qualche ateo pensa che la figura di Cristo sia una figura buona o che ci sono i principi buoni cioè alcuni ate intelligenti purtroppo pochi non in Italia hanno compreso questo che non esistono principi buoni nel monoteismo ti dico io ho ascoltato Angela il figlio no? il figlio di Angela che fa delle trasmissioni di archeologia e parlando degli uomini primitivi ha detto all'inizio gli uomini erano così cioè un archeologo che viene a dirmi parlando di uomini antichi cioè degli uomini che cominciano a emigrare dall'Africa all'inizio gli uomini è così io mi metto le mani i capelli cioè come se non ci fosse una cultura d'accumulo di altri miliardi di anni con una modificazione della struttura del DNA noi abbiamo che due geni due geni della struttura del DNA viene uno 36 mila anni fa e un altro 5-6 mila anni fa per cui c'è una modificazione di evoluzione in tempi recentissimi cioè in tempi brevissimi per quanto riguarda l'evoluzione ebbene questo imbecille dice che all'inizio l'uomo aveva così cioè non aveva sentimenti nasce il sentimento nasce questo cioè questo imbecille non si rende conto un'idea creazionista cioè l'uomo è stato creato da Dio e allora all'inizio che l'uomo è stato creato da Dio comincia a sviluppare i sentimenti e gli altri due miliardi e mezzo di anni io ho qui un articolo fra le altre cose in mezzo a tutto questo casino che sono riuscito a a tirar fuori vediamo un attimo se mi viene fra le mani ma dubito perché ho fatto un macello veramente in cui si dice beh a parte il bastone da passeggio del gorilla così cammina l'evoluzione che è un articolo della Repubblica del 510 2005 ma io ho un altro articolo la notizia è deformata in realtà il bastone si deve dare in mano a qualche antropologo o qualche adesso la sto sfogliando velocemente ma anche se non la trovo non è importante in pratica la notizia dice che anche gli animali hanno sentimenti piangono ridono si divertono sono contenti sono felici la stragoneria questo l'ha sempre saputo io capisco che la gente stia accorgendoci adesso di questo la gente calma alcuni antropologi prima che arrivi la gente ce ne vuole però fa ridere un parliante di una roba del genere si beh sai basterebbe soltanto smentire il fatto stesso della sfinge di Edipo e della sfinge cos'era la sfinge se non era un essere umano cos'era eppure Edipo ci va a parlare le comunica le fa un indovinello e lo risolve una volta sconfitta muore o se andessimo all'odissea le sirene la capacità di ammaliare di sedurre di attrarre significa che erano capaci di comprendere quando era il sentimento umano vedi sullo scudo di Ulisse i centauri sullo scudo di Ulisse c'era Atena e c'era Marte no? perché Ulisse era così sullo scudo no scusate di Achille scusate ho sbagliato sullo scudo di Achille c'era Atena e c'era Marte perché Achille era così sul scudo di Ulisse c'era il delfino perché il delfino gli aveva salvato il figlio caduto dalla nave cioè fin da allora si sapeva la capacità degli animali di capire e di intervenire dopo adesso li macellano così gratuitamente che fa un po' incacciare Romolo e Remolo Romolo e Remo discorso della Luppa nel senso che tutti quanti gli animali cioè che sono presenti che convivono che convivono che sparticano il mondo che convivono con le persone cioè è sempre esistito nelle civiltà non monoteistiche questo è un concetto che gli animali hanno la capacità di interagire con l'uomo gli egiziani non avevano nessun nome per il gatto eppure il gatto si trovava dappertutto allora praticamente le elaborazioni monoteistiche erano che il gatto non valesse niente per gli egiziani dopo trovo di qua trovo di là sono accorti che il fatto che non avesse un nome era così importante ma così importante ma così importante che non servivano nomi per definirlo poi pensa che il cambiamento di mentalità che c'è cioè dal fatto che non troviamo i nomi del gatto per cui il gatto non è a quanto invece è importante si ma se tu devi aggiungere il fatto stesso anche dei racconti mitologici la presenza di animali è talmente consistente è talmente forte se voi pensate ad esempio ai sistemi di comunicazione delle nife che prevedevano che i messaggeri di certe nife fossero le api di conseguenza ogni ape potesse essere messaggero di una nife perciò andava considerata perciò aveva un valore importante in quanto comunicava cioè questo sembra appartenuto a qualsiasi metodologia soltanto il monoteismo li ha considerati privi di anima li ha presi oggetti e insignificanti tanto l'hanno fatto anche con gli uomini insomma tanto meglio con gli animali va bene francesco sono le 15.50 non abbiamo fatto nessun articolo di rascina stampa no posso rubarti un attimino ma anche due me ne rubi